Buona giornata a tutti e ben ritornati dagli studi di Teleradio Pace in questo 16 di gennaio che vediamo si apre con un bel sole, un bel sole non convintissimo diciamo convinto al 50% però però c'è tra l'altro si apre una settimana particolare perché questa è la terza settimana del mese primo del 2023 di gennaio appunto siamo a 16 gennaio quindi siamo oltre già la metà del mese del primo mese di questo nuovo anno e questa è la settimana in cui realmente forse dal punto di vista proprio sensitivo sensibile inizierà l'inverno cioè perché fin qua abbiamo un po' scherzato qualche momento freddo c'è stato ma soprattutto in autunno più che in inverno da lì da quando è iniziato l'inverno cioè il 21 di dicembre abbiamo avuto invece temperature molto al di sopra della media stagionale tanto è vero che non c'è stata la neve sui nostri monti durante le vacanze di Natale eccetera questa situazione dovrebbe cambiare bruscamente o sta cambiando bruscamente in queste ore perché c'è un abbassamento delle temperature ma non è ancora niente rispetto a quello che arriverà molto probabilmente a metà settimana quindi tra giovedì venerdì in particolare sentiremo un abbassamento sensibile delle temperature quello che invece ci sta mostrando in questo momento il nostro regista alessandro bavestrello che saluto è anche questo inizio di mareggiata perché oggi c'è un avviso di vento forte e conseguentemente anche di mare agitato quindi mare agitato a largo per onda da libeccio quindi onda da sud ovest e quindi particolarmente colpite saranno la riviera tra chiavari e sestri levante dove ci saranno appunto queste mareggiate sia nella giornata di oggi che nella giornata di domani quando poi il mare forse un pochino si calma ma nel pomeriggio di domani quindi abbiamo davanti a noi più di 24 ore di tempo in questo senso per quanto riguarda la giornata vediamo in questo momento una giornata buona tutto sommato però attenzione perché ci sono ancora delle nuvole lo vediamo è proprio sul sull' orizzonte in effetti non sarà una giornata stabile per niente perché nella seconda parte della giornata queste nuvole potrebbero tornare ad essere maggioritarie quindi ad oscurare il sole ed il cielo e non sono neanche da escludere delle nuove precipitazioni nel corso del pomeriggio perché questa settimana sarà caratterizzata sì dall' abbassamento delle temperature ma anche da un tempo abbastanza alto allenante fino ad arrivare a lunedì a venerdì quando dovrebbe esserci un un netto miglioramento ma da oggi a giovedì avremo invece un alternarsi di annuvolamenti schiarite piogge insomma avremo un tempo abbastanza movimentato un po all'inglese se vogliamo quindi le giornate possono iniziare così con delle schiarite e poi continuare in maniera peggiore o al contrario iniziare con degli annuvolamenti poi avere delle schiarite durante le giornate poi li vedremo una una piano piano per quanto riguarda invece la notizia che possiamo vediamo anche sul sul nostro roll eccetera è un po il ritorno della neve o meglio di una iniziale spolverata di neve che adesso possiamo inquadrare appunto dal prato della cipolla vedete in questo momento siamo ai 1500 metri e appunto c'è un questo questa copertura nevosa che non è ancora molto convinta perché vediamo delle chiazze di terra eccetera quindi è davvero un'infarinata però però è l'inizio è l'inizio di qualcosa di nuovo perché fino ad oggi purtroppo la valdaveto non ha goduto di una copertura nuvolosa diciamo sufficiente per poter riaprire gli impianti e quindi lo sappiamo l'inverno è corto poi alla fine se inizia a questo punto e purtroppo ancora la stagione scistica in valdaveto non è decollata speriamo davvero che questa settimana sia la settimana che si aspettavano tutti in valdaveto che continui almeno al mantenimento del della neve ma chiaramente deve nevicare ancora molto speriamo che succeda nei prossimi giorni perché non ci vuole soltanto il freddo ci vogliono anche le precipitazioni questo è chiaro andremo a vedere speriamo di sì insomma auguriamo agli amici della valdaveto che arrivi veramente tanta neve quest'anno e andiamo invece adesso a parlare proprio di temperature che sono calate ma non in maniera drastica infatti in questo momento la minima no non siamo ancora nella minima è stata di meno 4.4 sul monte buo adesso siamo a meno 4.1 minima di meno 3.8 al prato della cipolla ora siamo a due gradi e mezzo meno 0.2 a rocca daveto ma la minima è stata di meno 1 grado punto 7 minima di 7 decimi di grado sopra lo zero a rezzoglio basso sotto zero invece cabanne con meno 0.7 e parazzuolo con una minima di meno 1.3 tutte invece al di sopra dello zero le minime nel resto dell'entroterra del tiguglio siamo in valle sturla dove a casa di borzonasca sono stati 4 gradi e mezzo sopra lo 0 5.1 a bel piano a pontori in val graveglia 6 gradi punto 6 temperature più basse invece in val fontana buona con 4 gradi e 4 a favale ma di malvaro 4 gradi e 6 a pezzo nasca di moconesi 5 gradi e mezzo a pian dei preti di tribogna e 6 gradi a villa oneto e veniamo sulla costa dove la temperatura più bassa è stata registrata nella stazione golf di rapallo con 6 gradi e mezzo e a san pier di canne 7 gradi e 6 per il resto sulla costa le temperature non sono scese sotto gli 8 gradi o meglio insomma gran parte gran parte delle località forse qualcosa a lavagna andiamo a vedere 8 gradi e 2 a santa margherita 8 gradi e 3 a rapallo 8 gradi e 2 a chiavari sul porto ecco l'unica temperatura sotto gli 8 gradi 7 gradi e mezzo al porto di lavagna 8 gradi e 4 a sestri levante nella zona del municipio e 8 gradi punto 7 a moneglia qualche grado in più in golfo paradiso a nervi 9 gradi e 8 nel centro di genova marassi 6 gradi e mezzo e nel ponente genovese a pra invece ci sono stati 8 gradi punto 2 alla spezia in centro 9 gradi e 1 a savona 5 gradi e 4 ad imperi a 6 gradi e 2 e a 20 miglia 8 gradi e 2 quindi temerature che si stanno avvicinando alla media stagionale del periodo siamo ancora un po più elevati di 2 gradi 2 gradi e mezzo però ci stiamo avvicinando a quei valori anche la massima nel corso del pomeriggio non andrà molto alta nei giorni scorsi abbiamo visto i 15 16 o anche 17 gradi oggi non dovremmo andare oltre i 14 gradi andiamo adesso invece a parlare di notizie andiamo sulle prime pagine dei quotidiani iniziando la pagina online del corriere della sera ci sono state delle malumori all'interno della maggioranza un po di frizioni tra berlusconi e la meloni sul decreto benzina la lega che vuole andare verso un'autonomia delle regioni immediatamente gli altri diciamo alleati che lo stanno un po frenando qualcuno oggi rimette in giro la parola messe cioè l'acronimo messe che questo fondo salva stati si dice che la meloni sarebbe decisa a chiederlo all'europa ma sono solo alcuni quotidiani a dirlo non ci sono note ufficiali di palazzo chigi però ieri è stato un giorno di tregua perché è stato il giorno dei festeggiamenti del compleanno della premier giorgia meloni e allora berlusconi le ha telefonato ha fatto una telefonata molto galante come fa spesso lui e si sono un po diciamo così riappacificati da un certo punto di vista vediamo appunto cosa scrive la prima pagina il corrida della sera me berlusconi meloni il leader di forza italia chiede pari dignità ipotesi di un incontro tagliani sul mess dobbiamo essere flessibili quindi si ritornano a parlare di mess la premier non voglio farmi spaventare dai problemi il leader di forza italia l'irritazione non del tutto placata e giorgia meloni festeggia il suo compleanno da premier riunione di famiglia una torta con 46 candeline poi si parla sempre di cronaca nera il femminicidio di roma dove è morta una avvocatesa o avvocata come volete chiamarla al fuori di un ristorante però la lite è partita dentro il ristorante quindi qualcuno dice ma si poteva evitare qualcuno poteva già intervenire pare che siano stati chiamati i carabinieri o comunque la polizia al 112 ma nessuno si è intervenuto adesso si andrà a vedere se questo è vero martina poteva essere salvata il giallo del 112 quello sul cancro di lui un vicino di bonaiuti disse se non ti sta bene ti sparo però nessuno pensava che davvero l'uomo fosse armato i titolari del locale dicono che c'è stata una chiamata alla polizia già durante la lite ma la pattuglia non è mai arrivata e lui nega di avere il cancro e poi altre notizie sempre su angela celentano questa ragazzina scobimba bambina scomparsa tantissimi anni fa ora sarebbe stata vista in turchia la gip chiede di indagare ancora e poi casa green i vecchi edifici stanno già perdendo valore per i requisiti energetici la nuova direttiva dell'unione europea ancora da provare impone entro il 2030 almeno la classe e o la classe d entro tre anni in italia si dovrebbe intervenire su due case su tre decreto carburanti che oggi entra in vigore le sanzioni e i bonus cosa cambia torna anche l'ipotesi di sciopero meglio la minaccia di sciopero da parte dei gestori delle autostrade sciopero che scusate dei gestori dei carburanti ovunque non sono le autostrade sciopero che dovrebbe essere poi il 24 25 di gennaio quindi la prossima settimana sanità i numeri shock dei medici a gettone centomila turni in un anno e poi c'è la tragedia di nipro dove è caduta una un missile un missile che pensate normalmente viene utilizzato per sventrare le porta aeree in un condominio con tantissime persone pare che le vittime accertate siano più di 60 stavo leggendo prima in una no scusate no mi sbaglio 35 35 i morti accertati ma ci sarebbero ancora delle persone sotto le macerie madre figli amiche tutte le vite stroncate dal missile russo lanciato su dnipro progetto per appunto è stato progettato per sventare le porta aeree ha colpito un palazzo da 72 appartamenti e poi new york due aeree rischiano la collisione tragedia sfiorata cosa è successo all'aeroporto jfk la sera del 13 di gennaio poi notizie sconcertanti porta della droga in regalo al figlio detenuto in carcere madre fermata durante il colloquio la professoressa di rovigo mi hanno sparato i pallini ora ho paura dei ragazzi e i genitori sono assenti insomma poi ci sono tante altre notizie ma io passerei alla prima pagina del secolo decimo nono di oggi pal prima pagina appunto dedicata all'industria e in crisi e anche le ripercussioni su genova vediamo industria e crisi posti a rischio sono 60 mila emergenza ilva settore mette al metà dal meccanico aperti 206 tavoli in italia di cui 8 in liguria meloni cede sul mess almeno appunto oggi il secolo dice così anche la stampa naturalmente però insomma non è stato chiaramente mai confermato da palazzo chigi pronta la ratifica richiesta dall'unione europea berlusconi chiama la premier non fare tutto da sola parla anche matteo renzi oggi in un'intervista troppi errori sul decreto benzina il governo non durerà protesta antiminiera grete a thunberg è fermata in germania sapete che appunto la thunberg è andata a dare manforte agli ecologisti che erano presenti su un sito minerario di carbone in germania e la thunberg è stata portata via di peso avvisi ai politici giù le mani della cultura il commento di mauro barberis alle uscite del ministro san giuliani che sapeva di provocare un vespaio molti dicono l'ha fatto apposta per distrarre da altri argomenti e poi finanziare raggi x gratis la guida alla legge di bilancio e ieri è partita la ocean rice via la sfida partita da alicante la regata intorno al mondo che arriverà a genova e arriva anche il sindaco marco busci che dice il gran finale sotto la linterna sarà una festa fantastica il piano di genova gratis agli studenti bus extra urbani lo dicono appunto oggi delle colonne del secolo XIX i dirigenti della amt ma per il momento è solo un progetto ponente genovese la lunga attesa del nuovo ospedale poi i lavoratori stranieri arrivi fermi dal 2012 imprese in difficoltà e ancora dalla prima pagina del secolo dicevamo c'è un super ospite straniero ma non è né bruce princeton né madonna né appunto lady gaga ma ci sarà il festival di san re ma zelensky che non canterà ma parlerà al festival di san re ma così come ha fatto anche la consiglia degli oscar e tante altre manifestazioni mondiali e gonù e francini al fianco di amadeus sono le due diciamo così co conduttrici di alcune delle due serate poi ci sarà anche chiaramente anche chiara ferragne due sere la prima e l'ultima lo spezia vince anche in trasferta oggi empoli sampdoria e genova venezia quindi le genovesi sono impegnate negli nei posticipi di oggi mentre in zola brillato battuto il torino 1 a 0 quindi grande impresa degli aquilotti allora a questo punto possiamo scusate a questo punto possiamo andare a vedere appunto che cosa succede invece sulle pagine di cronaca locale ex scalo ferroviario lavori quasi ultimati parcheggio pronto già in primavera questo è il titolo di secolo decimonono su camogli vediamo appunto le immagini questo scalo questo posteggio che ha creato veramente tante tante bolemiche all'interno della città ricorderete anche dei ricorsi delle carel giudiziarie il progetto prevede 227 box e 8 posti auto su quattro piani il comitato troppo impattante senza interesse pubblico perché il comitato che è nato contro questo progetto continua naturalmente ad essere a molto molto sconcertato da quello che vede anche a livello dei lavori in corso ci sono stati il sequestro dell'area proteste di piazza guai giudiziari per sindaco e dirigenti sappiamo che insomma questo cantiere non è stato indolore per camogli c'è stata una spaccatura completa della città tra chi era a favore e chi era contrario però adesso i lavori sono arrivati ad un punto piuttosto importante il parcheggio potrebbe essere già attivo e aperto in primavera il via quattro anni fa posteggi venduti per tre quarti e vediamo appunto altre immagini sempre parlando di ferrovie qua è appunto un posteggio che è stato realizzato in un ex scalo ferroviario uno è stato annunciato la settimana scorsa anche a santa margherita ligure quindi a pochi distanti più chilometri di distanza da camogli ma si parla molto di ferrovie in questi giorni a chiavari per il progetto delle barriere fonosorbenti diciamo una svolta è arrivata la settimana scorsa ve ne abbiamo parlato noi in diretta con la decisione delle ferrovie di sospendere diciamo questa fase operativa dei lavori ma il comitato contro le barriere non si ferma non ci sta soltanto a questa sospensione vuole vedere questo progetto annullato e allora sentiamo le voci appunto del comitato che tra l'altro sabato ha effettuato anche una raccolta firme in via vittorio veneto vediamo si è fatto alla vecchia maniera andando in poste inviando una raccomandata ferrovie dello stato con le osservazioni dei cittadini contraria la costruzione delle barriere fonosorbenti lungo i binari di chiavari queste osservazioni sono sostanzialmente dei pareri negativi che possono andare dal fastidio per l'impatto visivo al disagio per la presenza di cantieri impattanti ai problemi che muri alti fino a 7 metri possono creare a chi abita nei pressi dei binari sono state raccolte da un avvocato di onda ligure assautenti che rappresenta la seconda raccolta firme organizzata dal comitato no alle barriere in via vittorio veneto a chiavari il legale ha dovuto lasciare gazeba alle 11 45 e andare fisicamente all'ufficio postale perché la casella pec di ferrovie risultava piena ed era quindi impossibile fare avere le osservazioni entro i termini stabiliti dalla legge oltre alle osservazioni è proseguita la raccolta firme e l'informazione per le persone i componenti del comitato spiegano che l'affluenza era simile a quella del sabato precedente in cui erano state raccolte circa mille firme con queste firme tramite l'avvocato vedremo come utilizzarle sicuramente andremo le porteremo ai tavoli di trattativa in cui ci sarà ci chiederanno un parere per quanto ci riguarda quest'opera non ha senso di esistere è più servirebbe di più delle opere a livello di materiale ferroviario insomma rinnovamento di tutto quello che fa rumore giovedì prossimo a chiavari ci sarà un consiglio comunale per parlare del tema il 31 gennaio il sindaco messuti incontrerà il viceministro rixi per chiedere di fermare l'opera al momento l'iter del progetto è sospeso se quanto quanto dice il consigliere regionale garibaldi che mercoledì ha incontrato rixi a roma però non c'è ancora nulla di scritto sì è quello che ci preoccupa che trattandosi di legge una sospensione potrebbe essere di un mese sei mesi però non c'è certezza il nostro obiettivo è quello che venga stralciata quest'opera non che venga sospesa e allora abbiamo seduto la voce del comitato contro le barriere fonosorbenti per le ferrovie parliamo di una strada adiacente alla ferrovia però a santa margherita ligure e nel quartiere san siro si tratta di via croza dell'oro c'è una protesta dei residenti ma non per la vicinanza delle ferrovie quanto per il manto stradale la protesta dei residenti a santa salita croza dell'oro pericolosa il sindaco della strada privata deve intervenire il proprietario e non il comune vediamo appunto una immagine di questa strada e adesso invece ci colleghiamo con la redazione dove vedo prontissimo maurizio carrefa buongiorno maurizio buongiorno marco un saluto a tutti prendiamo la linea dalla redazione per ricordare un appuntamento di oggi ossia l'apertura dell'area picnic è una novità che riguarda le parrocchie dell'ambito di chiavari leivi e camposasco e che aprirà intorno alle 12 30 la fascia oraria da lunedì al venerdì da oggi in poi sarà proprio questa dalle 12 30 alle 14 30 forse anche 15 è un'area per permettere agli studenti che vengono a chiavari nelle scuole del territorio chiavarese di fermarsi un attimo e soprattutto consumare il pranzo al coperto la prima volta che viene realizzata un'idea di questo genere sul territorio a beneficio proprio dei ragazzi in questo periodo in particolar modo di pioggia di freddo insomma avere un luogo dove consumare il proprio pranzo portato da casa oppure comprato allora su questo vediamo il servizio per ricordare appunto questo appuntamento poi la linea può tornare a te marco uno spazio libero dove mangiare il panino portato da casa o la focaccia comprata in pausa pranzo l'ingresso è totalmente gratuito non è necessario nessun tipo di iscrizione non è uno spazio un momento religioso e l'area picnic che aprirà lunedì a chiavari all'oratorio dei filippini con ingresso su via raggio nasce dal vedere i ragazzi che durante la pausa pranzo mangiano per strada sulle panchine sulle scalini sotto il prono della cattedrale l'idea la prima in assoluto in zona è venuta le parrocchie di chiavari levi e camposasco con l'aiuto della pastorale giovanile della diocesi potranno trovare delle sedie dei tavoli per accomodarsi un fornetto microonde un bollitore i bagni anche una linea wifi e un calcetto ad accogliere i ragazzi ci sarà un educatore professionale della cooperativa il sentiero di arianna che ascolterà i giovani e raccoglierà eventuali proposte per provare a trasformarli in progetti questo spazio inizialmente è stato strutturato in modo molto essenziale ci piacerebbe che poi i ragazzi si hanno delle idee interagendo con l'educatore le possano realizzare nel momento di apertura di questo servizio si parte il 16 gennaio l'ex chiesa di filippini sarà aperta da lunedì al venerdì dalle 12 30 alle 14 30 forse anche una mezz'ora in più non poche persone ci hanno segnalato che escono da scuola o alle 2 meno 10 o alle 2 quindi sicuramente nelle prime due settimane estenderemo questo servizio fino alle 15 la notizia sta girando nelle scuole la risposta ci ha stupito spiega dom cigalupo è stata molto positiva senza saperlo abbiamo intercettato un bisogno reale per sostenere i costi una mano potrebbe arrivare dal comune di chiavari i primi incontri sono andati bene ecco sembra che ci sia attenzione da questo punto di vista in un futuro i ragazzi potrebbero non pagare l'autobus per gli spostamenti legati naturalmente alla loro attività scolastica anche fuori dalla città di genova infatti è allo studio un piano di amt per eliminare appunto il biglietto l'abbonamento per i ragazzi gli over 65 bus gratis si allarga il piano di amt ora tocca alle linee extraurbane garbarino che è consigliere metropolitano delegato al trasporto pubblico dice allo studio l'esenzione per universitari e over 65 ma i sindacati chiedono garanzie sui conti quindi è ancora un piano non è ancora una decisione diciamo così definitiva e quindi si vuole dare alla possibilità di mobilità diciamo sostenibile una chance in più eliminando il prezzo del biglietto che non sarebbe male per i ragazzi e per le famiglie naturalmente degli studenti e anche degli anziani di over 65 andiamo ancora dalle pagine del secolo decimo nono per parlare di covi di influenza eccetera covi decalano contagi e ricoveri pronto soccorso c'è un vertice pronto giovedì confronto tra l'asle e sindacati urgono infatti decisioni urgenti per affrontare il problema della carenza di organico perché il pronto soccorso per tutta la fase invernale ma anche d'estate quando poi la popolazione aumenta in vista dell'arrivo di turisti è preso di mira d'assalto da sempre da decine e decine di persone durante tutte le giornate ma in questo momento la problematica fondamentale è che mancano i medici e l'organico gli infermieri quindi è necessario capire che cosa si può fare per riportare le cose alla normalità camogli escursione sulla via dei tubi una gita piuttosto impegnativa per escursionisti esperti si parte sabato 21 di gennaio ma sono aperte le prontazioni già da questo momento appunto verso il parco di portofino e poi ancora riqualificazione del sentiero dei baci tra paraggi e portofino sono in corso i lavori che dovrebbero terminare a febbraio per riqualificare questo sentiero ritagliato nel verde del promontorio valorizzato da un intervento congiunto di regione comune inaugurato a giugno del 2019 quando appunto si decise anche di mettere questo nome particolare il sentiero dei baci forse per ricordare un po il sentiero dell'amore delle cinque terre chissà e poi naturalmente la grande apprezzione per la sorte di andrea il ragazzo di 14 anni rimasto gravemente gravemente ferito e durante appunto ricorderete un'escursione in canoa lungo il fiume entella lotta piccolo scricciolo tutti gli amici di andrea si stringono intorno alla famiglia sempre gravissimo al gasline il canoista di 14 anni e poi raffica su raffica di lavori raffica di lavori sulla 12 raffica anche di chiusure fino a domenica l'autostrada della riviera ai nuovi cantieri per esempio nella prossima sera cioè dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto compreso tra chiave e lavagna in direzione rosignano e poi via via nelle altre serate per esempio domani sera sarà chiuso il tratto già sarà chiuso per esempio nel casello di chiave sia in entrata che in uscita e poi più avanti sarà chiuso il tratto lavagna e sessi levante insomma ogni giorno ci sarà una chiusura perché continuano le opere di manutenzione straordinaria degli delle strade delle autostrade dei tratti autostradali del nostro territorio della nostra riviera andiamo ancora avanti e sempre dal secolo decimo nono di oggi abbiamo mostrato possiamo anche rifarlo la neve che è scesa durante la scorsa notte sul prato della cipolla neve che non ancora necessaria e sufficiente per poter riaprire gli impianti per poter fare attività sciistica lo vediamo una spolverata in questo momento è molto bassa saranno proprio pochi centimetri però insomma questo fa bene sperare per la riapertura degli impianti per l'avvio della vera stagione turistica e sciistica della valdavido che praticamente deve ancora iniziare niente sci in valdavido serve la neve di gennaio scrive oggi il secolo decimo nonno dopo il flop natalizio si spera di aprire gli impianti nel prossimo weekend lo speriamo che questa settimana sia risolutiva sicuramente arriva il freddo ora speriamo anche qualche precipitazione in più in particolare sulla valdavido dovrebbe dovrebbe cioè ci sono grosse possibilità perché questo avvenga davvero avviso di arpal per oggi riviera vento di burrasca forte mareggiata intensa lo abbiamo detto anche in apertura attenzione quindi vento che potrebbe essere molto forte e lo diciamo soprattutto per chi viaggia sulle autostrade e mareggiata ecco non è periodo di gita in barca per oggi assolutamente non bisogna farla perché è previsto mare molto forte da libeccio quindi sud ovese quindi le coste colpite in particolare quelle di chiavari e di sestri levante meteo incerto però tanta gente anche ieri nella fiera sant'antonio di chiaveri attenzione perché le fiere non finiscono qui perché domenica 22 gennaio arriva la grande fiera di san sebastiano a rapallo quest'anno sono previste 365 bancarelle quindi un centinaio e meno rispetto a quelle di chiavari ma in un territorio di decisamente più stretto quello di rapallo quindi rapallo domenica sarà diciamo davvero invasa dalle bancarelle e poi parlando di meteo non possiamo parlare che del mare che è sempre più caldo il mare mediterraneo sta diventando praticamente quasi simile ad un mare tropicale mare sempre più caldo morì a di specie autoctone e arrivo di pesci foresti cioè di pesci che non ci sono mai state nelle nostre acque se ne parla in un libro scritto dal biologi marini ma merotto pesare tonelli coinvolta alla riserva di portofino parliamo di sport il calcio e andiamo in serie di la serie c l'abbiamo vista già sabato sera perché la virtu centella questa settimana è andata a giocare in campo al comune a dirimini nel pomeriggio di sabato ed è uscita vittoriosa per 4 a 1 è la vittoria più larga che ha ottenuto in questo campionato quindi ottima prestazione per la virtu centella che poi tra l'altro si sta già preparando per la coppa italia perché attenzione la coppa italia arriva mercoledì alle 18 allo stadio comunale e appunto la virtu centella sarà impegnata con una grande squadra al vicenza quindi non c'è tempo per diciamo brindare troppo per la vittoria contro rimini bisogna subito lavorare per questa diciamo impegno infrasettimanale però per quanto riguarda invece la serie di ieri sestri levante si è un pochino inceppato dopo la sconfitta contro la sanremese che poteva voler dire un'ippoteca enorme sul campionato e quindi sulla promozione in serie c appunto non è andata bene domenica scorsa ma non è andata tanto bene neanche ieri perché il sestri levante contro legnano si è fermato allo 0 a 0 quindi un punto soltanto che non serve a dare grande sicurezza in quanto la sanremese che è distante è distante dal sestri levante in questo momento però ha due gare da recuperare quindi bisognerà vedere cosa farà in quelle due gare con legnano non va oltre il pareggio il rosso blu di barillare sono alla terza partita consecutiva senza vittorie e nemmeno un gol realizzato comunque guardando la classifica vediamo che in questo momento sestri levante a 50 punti 8 di distanza dalla sanremese però sappiamo che la sanremese a due partite in meno quindi potenzialmente potrebbe addirittura arrivare a quattro punti dalla dal sestri levante quindi bisogna vedere al punto di l'acquilotti su dati corsari in queste in queste giornate dovranno essere più lucidi più lucidi l'attaccante cominetti ci crede non guardiamo chi ci insegue è molto bella anche questo questo simbolo sopra la n non guardiamo chi ci insegna ogni tanto qualche refuso di stampa esce fuori e parliamo di eccellenza con il derby in eccellenza appena il tiguglio quello tra la lavagnese arriva samba e è andato in scena a lavagna proprio nella giornata di ieri un punto un gol e vale tre punti lavagnese altri tre punti a riboli il gol di troncino abbatte arriva i bianconeri di ruvo vendicano la sconfitta l'andata e si confermano secondi entusiasmo sugli spalti con i ragazzini del settore giovanile a sostenere l'intera squadra l'altra tigullina è andata male contro la prima in classifica al benga al benga 3 rapallo 0 a questo punto insomma la lotta si fa dura ma la lavagnese spera ancora di farcela di essere promossa quest'anno o andare chiaramente agli spareggi ma naturalmente la promozione subito sarebbe decisamente migliore adesso andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti di oggi ecco la nostra agenda lunedì 16 gennaio silvana rigovello descriverà l'esperienza di mary shelly alerici nella conferenza inserita nel filone viaggi letterari nell'ambito dei corsi di cultura di chiavari appuntamento alle 16 alla sala livellara gesù era pacifista guerra e pace nel nuovo testamento nella tradizione cristiana è il titolo della lezione che vito mancuso terrà alle 18 a palazzo ducale a genova l'incontro apre il ciclo di fronte alla guerra e sulle vie della pace organizzato da palazzo ducale in collaborazione con il centro studi antonio balletto fino al 20 marzo il cinema sivori di salita santa caterina a genova ospita la rassegna mondo visioni organizzata da cine agenzia insieme al settimanale internazionale il primo appuntamento è con h2 occupation lab di idita bravami e onoam shayzaf in ebraico arabo inglese con i sottotitoli in italiano preceduto dall'intervento dello storico luca borzani e dedicato al conflitto arabo israeliano l'inizio è alle 20 e 30 e allora adesso andiamo a vedere che cosa succede dal punto di vista meteorologico c'è una saccatura in quota ricolma di aria polare che caratterizza questi primi dei giorni della settimana quindi lo abbiamo detto prima da oggi a giovedì avremo una accavallarsi di momenti di cielo più sereno adesso vedete che il tempo già sta iniziando un po a cambiare rispetto all'inizio del nostro programma e cambierà ancora purtroppo nel pomeriggio rivedremo tante nuvole e anche qualche pioggia il sole splenderà a tratti soltanto sulla liguria andiamo a vedere infatti che cosa succede al mattino nubi sul levante possibili piovaschi sullo spezzino appunto nelle prime ore poi adesso il tempo è più asciutto a ponente qualche nuve sparsa nel pomeriggio residui deboli piogge sullo spezzino tempo sempre asciutto invece a ponente quindi questa la situazione per vista e questa è presista dalla limit perché altre agenzie meteorologiche invece danno nel pomeriggio il passaggio proprio sul levante di una nuova piccola saccatura che potrebbe dare invece precipitazioni un pochino più importanti però ve lo diciamo per dovere di cronaca comunque le piogge non sono assolutamente escluse nel pomeriggio sul levante venti tesi da sud ovest su imperiesi il levante rinforzi fino a burrasca a largo più deboli tra savona e genova mare da molto mosso localmente agitati sul levante fino a molto agitati in serata a largo oggi abbiamo detto caratterizzato da vento e mare e mare molto agitato temperature in calo le massime oggi non andranno oltre i 14 gradi domani che cosa succede vedete che c'è la neve che scende sulla val d'aveto quindi questo è un una grande speranza per avere vedere un manto nevoso degno di questo nome per domani martedì 17 gennaio al limit prevede molte nubi sparse con bassa probabilità di precipitazioni sul levante e invece qualche precipitazione nelle zone interne e saranno nevose al di sopra degli 800 metri di quota venti forti di burrasca da sud ovest a largo e dal pomeriggio moderati tra nord e genova e savona e poi mare agitato fino a molto agitato a largo per burrasca di libeccio e temperature in diminuzione giornata di variabilità anche mercoledì ma forse più asciutta meno piovosa e adesso vi salutiamo ringraziando alessandro bavestrello che ha curato la parte tecnica in regia il nostro maurizio carrefa che abbiamo visto in diretta e anche andrea capitani insieme agli altri colleghi che prepareranno l'edizione delle 12 45 del tg tg gli oggi noi vi aspettiamo domani ore 7 30 8 10 da parte di marco revello l'augurio di un'ottima giornata e buonissima settimana con tele pace